Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Pasquale Bergamaschi e Carlino, un commento sulla situazione che si sta sviluppando in Casa Samb. C'è un passaggio di consegne con il socio coreano di Serafino che prenderebbe la maggioranza del club. Innanzitutto bisogna dire che torniamo all'antico qui. Con buffi contro buffi, manovre finanziarie anticipate, proclamate, anzi più che anticipate, proclamate che poi non sono fatte niente. Insomma adesso stiamo in una situazione di nebulosità tale che le voci che corrono sembra che il socio coreano di Serafino voglia rilevare tutto con l'avvocato Acronzio che sta tessendo le file per arrivare a questo accordo. Cioè nomi conosciuti, anche qui non certamente esaltanti per dirla, come dice il popolo del tifo, il salvatore della patria. Però insomma almeno tiriamo avanti. Certo che c'è una situazione tragica a livello calcistico perché ci saranno sicuramente i punti di penalizzazione che se sono sei manderà la San Mettese a 38-39 punti. Siamo alla risa dei conti. Nessuno si aspettava che finisse così. Adesso bisogna salvare la squadra e la società da possibili penalizzazioni perché il rischio c'è. Sul passaggio, i consegni? Ma io penso che forse bisogna valutare prima al momento della cessione della squadra le persone che avrebbero comprato. Bisogna fare una specie di verifica perché ci siamo trovati tante volte anche in passato. Io non è che vorrei fare un po' dal manaco, però insomma la situazione non è nuova con la squadra che ha vitto i campionati e poi si è ritrovata indietro.